Ed ora un appuntamento culturale. È stato un italiano di origini peruviane il vincitore della terza edizione del concorso internazionale di illustrazione organizzato dalla Fondazione Malagutti. Tutte le opere pervenute sono ora raccolte in una mostra aperta al Palazzo di San Sebastiano. Ha vinto il peruviano Ricolli Rosazza la terza edizione del concorso internazionale di illustrazione Fuochino-Fochetto organizzato dalla Fondazione Malagutti Onlus e dall'Associazione Italiana Illustratori con il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione del Museo di San Sebastiano. Questa terza edizione dal titolo Fuochino-Fochetto è stata un'edizione caratterizzata da un aumento del 50% dei disegni pervenuti e da una varietà anche a livello internazionale. Quindi una buona qualità dei disegni che sono arrivati. Interessante il gioco che ha creato questo titolo Fuochino-Fochetto dove si è spaziati da situazioni molto particolari tipo Auschwitz a situazioni giocose o grafiche che hanno aperto l'idea del gioco, l'idea rivolta direttamente al bambino. L'opera vincitrice diventerà l'immagine simbolo del materiale promozionale del decimo concorso internazionale di disegno che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di bambini. La mostra delle illustrazioni sarà aperta al pubblico fino a domenica prossima dalle 9 alle 18 presso il Museo di San Sebastiano con ingresso gratuito.